Ciao a tutti ragazzi e ciao a tutti ragazzi Mentre avete un nuovo video Oggi giocheremo a Minecraft E giocheremo a Minecraft E faremo un'avventura Sembra strano che Non facciamo un'avventura perché io non la faccio mai Praticamente non la faccio mai Non la faccio sempre nei serv Magari costruisco nella vanilla Però quasi mai Poi gioco a degli altri giochi Guardo molto dei video Però non gioco praticamente mai Con le avventure Non faccio mai le avventure Però oggi Le facciamo Proprio per questo Le facciamo proprio Con le scene E mi è venuto in mente Come possiamo fare Le avventure con le scene Infatti E' bellissimo E' bellissimo con le scene E' un altro modo per fare le avventure Ogni volta le avventure Facciamo le avventure però con le scene Allora Quindi è proprio bello Allora che bello Guardate 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 Un foglio flucro Un legione Guarda che bello L'albero è ancora più scuro Guardate Aspettate Guardate Ne metto uno Guardate che bello Ci sono anche Ovviamente C'è tutto Allora Quando tolgo l'invento C'è questo L'ane L'ane di tutti i colori Ma se invece Dov'è in mente Questo Io dico E' bellissimo E' bellissimo Oh Pollo Pollo Ah sono in camera mia Quindi Non è proprio che Sono comodo Comodo Allora Caverne No Io vedo tanti alberi Anzi Un'idea Prima mi faccio tutto Dai Prima mi faccio Lascio Che Così Vado più velocemente Ora Se vuoi già Faccio Un letto Vediamo Un letto Bellissimo Il letto E' un po' uguale Però Vabbè Dai Su Questo E' l'ultimo Ok Questo E' questo Per Andiamo Nelle miniere Siamo a posto Mucche Grazie Per la tua Carne Succurante Dai Prendiamo Molto Prendiamo Molto Allerino Che è meglio Che è meglio Di solito Nelle scene Nei mondi Delle scene Si trovano Molte volte Le super Cavene Giganti Infatti Sì Infatti Infatti Qua ci ne sono Delle altre Lo sapevo Ogni volta E qua Sono obbligato A usarlo No Aspetta Peppolo 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 Dai ci facciamo Ah Giusto Spada E Dicolo Ci facciamo Anche L'ascia Ovviamente Non le posso Scordare 2 3 Ah Anche Giusto La fornace Beh Vanno bene 12 Vediamo Ci facciamo 2 Sì Vediamo Sì Dai Non voglio muovere Subito Stannamente Nelle scene E' più difficile Sopravvivere Nei mondi Delle scene E' più difficile Sopravvivere Perché ci sono più Grotte Grandissime Molto grandi Ci sono più mostri Credo Eh Lo so Però ci sono più minerali Devo dirlo Eh Questo E' una cosa Che mi piace Infatti Ci sono Tanti zombie Ecco Ecco Soltanto Non scherzo Non voglio E adesso Così Così Sono così Non cade niente No Non Provaci Mi sa Che ci può Ove Beh Io Mi fanno Scappo Devo Prendere Delle altre Linie Qua Non ci Rivaro Eh Perché E' troppo Pericolare Lo devo E' troppo E' troppo Tutto Mmm Ok Sono in una posizione Un po' scomodina Quindi Allora Andiamo Ecco A posto Due Ecco Vabbè Tanto Non muoio Ci sono Diversi Ok Andiamo Bello 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 Il fondale No E' veramente Bellissimo Prima Speriamo Un po' di Ciane E' veloce Su Dammi Un po' di Cane Vai Lento Te lento Te lento Dammi Un po' di Cane E' veloce E dammi E dammi La cane Zucco Eh Oh Ok Guarda Sto Mendo Affogato No Vabbè Quanto è succulento, su! Inizio, verrai arrostito! Ah, aspetta! In due colpi ci vuole, in due colpi! Dai, vediamo anche questo! Andate via! Ho fame! C'è la vela con noi! Devo dire che è veramente una cosa bellissima! Ho begliato? No! Non è difficile prendere! Ok, conto! Adesso! Ah! Ho famissimo! Ho pochi cuori, quindi ho solo quattro cuori! Devo stare molto, ma molto, ma molto, ma molto attento! Prendiamo anche gli altri cibo, guarda, guarda che cibo abbiamo! Allora, prendo questo che è il principale, è la principale cosa di Minecraft, ovviamente! C'è molto! Ehi villager! Fatemi vedere! Su! Oh, ciao! Ciao amichetto! Come va la vita? Su! Ecco! Certo! Sempre! Sempre! Oh! Sì! 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 Adesso io... Questa roba è mia! E la mia! Ah! Così! Così per le carote! Tu cosa commerci? 22 carote! Ce l'ho! Sì! Sì! No, pane non mi serve, grazie! Sì! 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 Smeraldi! Che bello! Eh! Vedi che poi... Eh! no no mi spiace ma no aia che buono che buona roba che c'è qui magari ci prendiamo anche questo dai finisce molto qui ah mettiamo qua giusto mettiamo mettiamo questo dai non voglio aspettare quella bella robina qua non c'è pane lo sapevo sono pane io rimango da questo giorno grano mi sa che è il grano no guardate la luna guardate la luna tieni i semini luna anzi mi seguono i semini no vabbè bellissimo e odio andare da me buonanotte buongiorno cavalieri no 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 beato ho abbagliato volevo scambiare con lui ma ho fatto un pasticcio no no non farlo ti prego guardami è stato un errore non voglio è stato un incidente grazie e giuro non ho fatto apposta e giuro non ho fatto apposta tu cos'hai da vedere ok dai grazie comunque ok beh cosa potremmo fare qua non c'è niente no invece è oh quattro smeraldi mica male prendiamo anche un altro letto dai mi piace già lì non c'è non mi fa impazzire però è bello dai ora in modo super veloce facciamo super prima e vediamo dalla zappa in oro però l'oro non serve tanto adesso pane però l'oro non serve tanto quindi potremmo usare lo so che è strano ma devo farlo devo farlo devo farlo è pericoloso oh golem grazie grazie eh grazie che mi vedono di qua non lo peccherò più promesso è stato un incidente io volevo fare un'altra cosa e lo voglio già ecco come ho grazie oh giusto però con me non lo faccio più no Sì, ma quanti sono piccoli smialdi? Sono piccoli smialdi? Che bello Che bello sono piccoli smialdi Ecco, ecco Un sacco, un sacco Vabbè, uso l'ascia Qua ci vuole Con l'ascia incavolata Con l'ascia incavolata No, è bellissimo Qua non c'è niente Ma quanti sono piccoli smialdi? No, vabbè, bellissimo Allora, io mi prenderei la cassa Sì, facciamo che ci rifiugiamo in questa casa, capisci? È molto grande Quindi io metto la cassa Ci c'è tutto, ci c'è tutto il mondo Andiamo Bene Ci mettiamo questo, questo, questo Questo, questo Questo, 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 questo Terra, va bene Eh, questo, 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 questo Quindi è questo mio, questo, no Questo Gli smialdi non li dovrei perdere Quindi se muoio Praticamente se muoio Allora, questa è mia Ah, idea Per riconoscere la mia casa Metto Voglio mettere un cartellino Allora Ovviamente Non spacco la mia casa Spacco qualcuno Una casa Fra Ho abbastanza smialdi per Per mettermi qualcosa No No Quindici di camoni Aspetta Ma io ne ho quindici Aspettami No Quattordici Per un pelo Porca Per un pelo Allora Allora Senti Ho gli smialdi Giusto Cavolo È lontano, eh No Vabbè Ho tanti smialdi Attento Attento La prossima volta E picchialo Conoscere Conoscere Oh ma Mi segui Fugo È poco fugo Dovevo No Te lo scodi Non c'è proprio niente No Vabbè Buonissima Vabbè dai Dove muovere Voglio subito Vedere qua Non c'è niente Ah sì Quella di prima Che cavolo No Ho perso Ho perso di vista L'alto Che cavolo Ci vorrà Ci vorrà molto tempo Per trovare Quel carbone Ok ragazzi Ne ha trovato Un po' di più Che cavolo No dai Lascia La sparo Ho già tutto Ma dove è finito Qua non c'è proprio niente Dove è Intanto Dammi Tutte le cavone Grasse È sceso A valle No Non è sceso Mi Cado Più Ok Boh Dove è Dove 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 Mi sono Disolimitato Ecco Oh Ecco Qua Sai che c'è Qualcuno qua No È la mia casa Giusto Dov'è C'è I soliti Che Ti scambio Sì 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 Bella Questa Ma Ecco Ti Ma C'ho Un campione No 14 Svelanti Per Cos'è No Non posso Ho bisogno di Smeraldi Sono povero E adesso Adesso non Il caroto Perché dite Di non Uvar Eh Se riesco Veramente A prendere 14 Mialdi Ovviamente Io Impasso Questo C'è No 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 Devo dare Prima Tutta Quella Roba Ok Sono così Quanti ne ho? 30 Senta Va benissimo Allora Eh Salve Sono il signore Super genio Dove hai? Vuoi una cosa veloce? Aia No Non dimmi Che sei tu No No Ciao E cavolo E cavolo E cavolo E no E no Ciao No Oh Oh cavolo No Raga No Scemi Però Ovviamente Che bella La luna Ok Lucas Ci sei riuscito Ho recuperato La roba Intanto Ho commerciato Ho trovato Tantissima roba Per commerciare Quindi ho 19 smirati Cavolo Porca Ce l'ha avuto Tantissima Per ritrovare Tutto Eccoti Eccoti Finalmente No Giusto Devo che forse Da di questo Cosa No Mi dici Ti ho spettato Tantissimi Sinaldi Per tutte Queste asce Adesso Mi devi spiegare Sinaldi Tantissima roba Tantissima roba Ah che cavolo, dovevo prendere il ferro, così andava direttamente, quello, oh caccola, oh caccola, oh caccola, oh caccola, what? No, non è possibile, ecco infatti, devo dargli tutti gli smeraldi, via dalla mia vita, la mia vita, oh giusto, devo s'uccidere, giusto! Mi faccio la roba, oh caccola, sembra una cliente, ciao, giusto, no, non devo fare, ah, devo scrivere casa di Andrea, dio metti una torre alta, per ricordarmi la cosa, e dov'è adesso che cavolo? Quanto tempo ci vuole, quanto tempo ci vuole, guarda, grazie, ho l'identità, ho l'identità, ho l'identità, ho l'identità. Ancora te? Eh ma allora dove siamo? Il giro del mondo, senti? Solo che ho fatto il giro del mondo. Ma dove è la mia casa? Voglio ritrovare, ecco, appena dico voglio ritrovare la mia casa, Aspettavo, eh, è una cosa veramente strana, ma vera. Ehi, la mia crafting! Ah, non la potevo fare, la potevo semplicemente fare, giusto. Scudo! E secchio! Ah, che bello, allora, non ho sprecato così tanto, asci. Ebbene, che sì, io faccio praticamente, salto un'oretta. Incredibile, ho sbaccato tantissimo, salto un po' di minuti, un bel po' di minuti, perché praticamente, vero, come ho c'è così tanto che la non avete, quindi praticamente avrò tantissimi, ma tantissimi generali. E quello lì mi doveva dare per forza la spara. E quindi devo saltare. Raga, ho cominciato tantissimo! Sono ritornato da lì, adesso mi devo andare! Gli smialdi? Sì! La spada! Affila testa 2. Sì! Finalmente! Grazie! Affila testa 2! Spada in diamante, eh, spada in... Sì! 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 Finalmente! We are the champion! Però tantissima roba! We are the champion! Posso distruggere il villaggio! Sì! Ahah! Sapete che? Non c'è più il golem! Che dice cosa fare! Ci sono io! Ci sono io! A fare la guatia! Oggi stessa! Ci sono io! Quindi state fatte! Ahah! Via! Ah! Tu un maialino? Sì! Pensavo che non ce la facciamo! Invece sì che ce la faccio! Invece sì che ce la faccio! Invece sì che ce la faccio! E quindi spacchiamo tutto! 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 potete farmi un cliente di stella? no ciao! non serve più niente ha 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 non serve più niente ormai che ho la spada leggendaria non mi puoi fare niente non mi puoi fare niente lo sai ma quanti della gemanca? ecco ecco ah questa è la non è non ci sono no oh ciao fra ciao fra ha 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 la tua vita è una cosa bruttissima ah ok adesso spero che questo video vi sia piaciuto mettete like e e per il nuovo video ciao aspettatevi un attimo faccio una cosa 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 c'è un altro village ah il golem non c'è più adesso potete fare quello che volete e io potrò fare una cosa in santa pace un attimo un attimo un attimo ah è no salt il pass e alt salt salt